Vediamo un po', dov'ero? Dunque, chissà che strada dovrò prendere? Chissà dove sei cacciato? Ho perduto qualcosa? Oh, no, cioè, mi stavo chiedendo... Oh, benissimo, allora. Un momento, prego. Seconda strofa. Come? Ma lei è un gatto. Uno stregatto astragliato. A luna sorgia l'olimo. Aspetti, non ce ne vada, la prego. Ecco ti servita. Terza strofa. Oh, no, no. Grazie. Volevo soltanto chiederle che strada devo prendere. Beh, tutto dipende da dove vuoi andare. Oh, veramente importa poco. Perché io riesco? Beh, allora importa poco. Che strada prendi? Al, mi era venuta un'idea. Stavo, stavo giusto pensando. A proposito, se vuoi proprio saperlo, è andato da quella parte. Chi? Il bianconiglio. Davvero? Davvero cosa? È andato di là. Ma chi? Oh, il coniglio bianco. Quale coniglio? Ma non ha detto lei poco fa. Cioè... Oh, cielo. Sai star dritto sulla testa tu? Comunque, se io cercassi un bianconiglio, lo chiederei al cappellaio matto. Al cappellaio matto? Oh, no, no, io no. Oppure al leprotto bisestile, in quella direzione. Oh, grazie. Credo che lo chiederà lui. Però guarda che gli mancano diversi venerdì. Oh, ma io non voglio andare in mezzo ai matti. Oh, non puoi farci niente. Sono quasi tutti matti qui. E ti sarai accorta che in fondo sono mezzo svanito anch'io. Santo cielo, se qui sono tutti come lui, devo stare attenta a non farli infuriare.